Il primo tampone è negativo, ma il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato poi positivo al Covid. Il primo cittadino padovano sta quindi seguendo i protocolli sanitari previsti in questi casi, mantenendosi in isolamento fiduciario. Il sindaco Giordani è risultato negativo ai primi tamponi, sta bene e continua da casa l'impegno amministrativo, fanno sapere fonti ufficiali di Palazzo Moroni.